La dottoressa Isabella Roppa è logopedista. Che tipo di connubio c'è stato e c'è nella giornata odierna tra i disturbi di apprendimento e l'allergia, visto che se ne è parlata tanto? Sì, allora, il nostro studio nasce appunto con la collaborazione del dottor Tansella perché dalla nostra esperienza clinica abbiamo visto che molti bambini che presentavano una difficoltà negli apprendimenti scolastici e presentavano nella loro storia anamnestica una sintomatologia di tipo allergico. Quindi abbiamo cercato di creare appunto un questionario per cercare di capire quale fosse la qualità di vita di questi bambini e soprattutto quali fossero le aree più compromesse. Quindi l'area riguardante la qualità del sonno, l'area riguardante appunto le attività della vita quotidiana e l'area riguardante appunto gli apprendimenti scolastici. E abbiamo visto che tutti questi bambini con l'immunoterapia presentavano sicuramente un miglioramento almeno uno su due dal punto di vista qualitativo sia degli apprendimenti scolastici sia della qualità del sonno. Quindi poi analizzando un pochino la letteratura ci siamo resi conto che probabilmente la qualità del sonno, probabilmente sicuramente l'efficienza cognitiva diminuiva a causa della questa sintomatologia allergica. Quindi grazie a una terapia appunto efficace come ad esempio l'immunoterapia, dopo due anni di somministrazione, quindi quando abbiamo l'efficacia massima, abbiamo visto che ci sono stati dei risultati importanti anche dal punto di vista qualitativo per i genitori come miglioramento delle abilità scolastiche nella lettura, scrittura e matematica. Quindi lei ritiene che la sintomatologia allergica in quel contesto, nel vostro contesto, può condizionare la qualità della vita del bambino sin dalla teneretà? Sì, sicuramente sì, sia perché è risaputo che la sintomatologia allergica può determinare irriquietezza, affaticamento, distraibilità, quindi disturbi dell'attenzione e della memoria che sono più implicati poi sia nelle attività quotidiane che negli apprendimenti scolastici, ma nel benessere quindi psicofisico del bambino. E soprattutto, molto spesso, la sintomatologia allergica preclude il bambino da alcune esperienze. Di conseguenza questo può determinare anche un effetto secondario di difficoltà di relazione con i coetani, per non parlare dell'ansia da parte dei genitori, dallo stress appunto di questi bambini che soffrono appunto di un disturbo che molto spesso diventa cronica. La cosa più importante e basilare per ogni branca specialistica, quindi che vada dall'allergologo al pediatra al logopedista, è l'alleanza terapeutica. Solo nel momento in cui c'è un'alleanza terapeutica con la famiglia c'è un'aderenza appunto alla terapia, che sia una terapia per l'allergia, che sia una terapia appunto di tipo riabilitativo, questo secondo me è il fulcro determinante per poter appunto diciamo prendere in carico complessivamente il bambino, perché il bambino deve essere sicuramente preso in carico nella sua globalità e deve essere cucita ad hoc una terapia per ogni singolo paziente.